Signore e signori, buongiorno, benvenuti a questa presentazione che ormai è diventato un appuntamento tradizionale. Io sono Salvatore Carrubo, il Presidente del Centri Naudi. Vi ringrazio tutti per la vostra presenza e partecipazione, ringrazio i nostri relatori, ringrazio il Sindaco di Torino, Piero Fassino, che anche quest'anno ha accettato di essere con noi, nonostante una mattinata che so impegnata e quindi doppie grazie al Sindaco, che sarà intervistato, per così dire, parteciperà a questo nostro dibattito attraverso un confronto con il mio collega Marco Ferrando. Naturalmente ringrazio tutti voi e innanzitutto la piazza dei mestieri che ci occupa, che ci ospita. Siamo arrivati, dicevo, a, ripetiamo un appuntamento che è diventato tradizionale, siamo arrivati alla quindicesima edizione di questa iniziativa che era stata iniziata e voluta per 12 anni prima dall'Associazione OVIV e poi dal Comitato Giorgio Rota che erano confluite nella Fondazione Giorgio Rota che a sua volta si è unificata un paio di anni fa, come ricorderete, con il Centro Naudi e quindi noi siamo molto lieti di proseguire nel nome dell'indimenticabile Giorgio Rota questa iniziativa che segna un momento importante nell'analisi di Torino su se stessa. È un'iniziativa che come sapete ha il sostegno della Compagnia di San Paolo, che ringrazio molto per rendere possibile appunto questo studio. E naturalmente questo studio sottolinea il profondo legame che da sempre c'è tra il Centro Naudi e la città di Torino. A Torino il Centro Naudi fu fondato 50 anni fa, il 31 dicembre del 1963. La data ci ha consigliato di spostare le celebrazioni ufficiali di questo anniversario importante all'autunno prossimo quando appunto ricorderemo in una iniziativa alla quale abbiamo invitato naturalmente anche il sindaco il cinquantenario del Centro Naudi e della sua presenza nella città di Torino. Questo rapporto, come abbiamo spesso sottolineato, si colloca nella più pura tradizione torinese di attaccamento a questa pratica dell'autoanalisi e lo dico con molta ammirazione da non torinese perché riconosco un punto di forza in questa capacità della città di Torino non solo di analizzarsi ma anche di aggregare intorno nell'analisi che fa un spaccato importante della città, della società civile, un'analisi che non rimane chiusa in alcune stanze della politica o dei centri studi ma che riesce a innervarsi anche in quelle che sono poi le strategie complessive della città. Naturalmente non entro nel merito del contenuto di questo rapporto perché ci sarà illustrato dagli autori. Dico solo che questo rapporto un po' nello spirito con cui affrontiamo questi mesi presenta una situazione di luci e di ombre nei tre ambiti che sono considerati, cioè quello del sistema di impresa, quello della trasformazione urbana e quello del sistema di welfare, dei bisogni sociali letti alla luce appunto della situazione economica globale e nazionale. E quindi voglio limitarmi qui a ringraziare i coordinatori dello studio che sono Luca Davico, Giuseppina De Santis e Anna Maria Gonella e con loro ringrazio gli autori dei capitoli Cristiana Cabodi, Sara Mela, Giuseppe Russo e Luca Staricco. Ricordo anche la collaborazione con l'Istituto d'Arte Applicate e Design di Torino per la copertina che come ogni anno viene appunto preparata in collaborazione con l'Istituto e che quest'anno è stata preparata da Luisa Carlucci e Alessandra Frau. Vorrei solo semplicemente in chiusura sottolineare tre aspetti che emergono dal rapporto e in qualche misura sottolineano anche il ruolo del centro nella città di Torino. Allora il primo aspetto che emerge e che viene confermato questo non dal questo rapporto, dal contenuto del rapporto ma dall'iniziativa è lo sforzo che il Centro Enaudi sta compiendo in questi anni per far crescere una nuova classe, una nuova leva di studiosi. Il Centro Enaudi appunto ha una tradizione molto radicata nella città di Torino, ci sono grandi nomi della cultura torinese che da sempre collaborano alle nostre attività, lo sforzo che si sta facendo in questi anni è quello di avere non soltanto un centro di maestri ma anche un centro di maestri che preparano una successione, di maestri che preparano una nuova generazione di studiosi, naturalmente di studiosi nel filone della cultura liberale democratica che caratterizza il Centro Enaudi. Il secondo punto è il filone che invece emerge molto significativamente da questo rapporto e che è un filone di studi al quale il Centro Enaudi si sta dedicando con grande impegno, che è il filone del cosiddetto secondo welfare. Emerge bene dal rapporto per esempio che c'è questa trasformazione del welfare dettato da un lato dalle nuove esigenze e dall'altro dalla forza della collaborazione che si può costituire su questo ambito fra le istituzioni, gli ambiti privati, i soggetti privati e le forze del volontariato e altri soggetti come le fondazioni di origine bancaria. Dice infatti il rapporto che uno dei principali assi di trasformazione del welfare è proprio quello della crescente mescolanza tra soggetti pubblici e privati nelle diverse fasi di progettazione, realizzazione e gestione dei servizi. È nota come l'incidenza dei privati sul pil generato dei servizi sociali da tempo sia piuttosto rilevante. Ecco, su questo aspetto il Centro Enaudi si è molto impegnato e stiamo tra l'altro partecipando a un importante progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea e coordinato dal professor Maurizio Ferrera che è proprio su questo campo. Pochi mesi fa a Milano abbiamo svolto un primo convegno con il Ministro, allora Ministro del welfare Giovannini e con il Presidente della Fondazione Caribo per presentare le prime evidenze di questi studi, ripeto lo studio avanti grazie anche a questo impegno economico dell'Unione Europea e offro, diciamo, offriamo anche questo contributo al Sindaco perché riteniamo che da questo punto di vista il contributo che sta dando al Centro Enaudi all'analisi per Torino sia un contributo importante. Il terzo aspetto è un aspetto anche questo più metodologico, il modello ricerca Giorgio Rota sta gemmando, sta gemmando perché, come forse sapete, si sta costituendo una rete nazionale fatta da altri rapporti, sta per essere presentato il rapporto Giorgio Rota su Roma che viene effettuato con Ires e con l'Università di Roma 3 e verrà anche presentato il rapporto Giorgio Rota su Napoli con SRM, quindi il caso Torino che appunto è arrivato, si è consolidato in questi 15 anni, ha fatto scuola ed è diventato una buona pratica. Quindi sentiamo adesso i contenuti del rapporto, dicevo, luci ed ombre, ce lo spiegheranno questo aspetto i nostri relatori, coordinati da Marco Ferrande. Marco Ferrande, dal titolo stesso della ricerca si capisce che abbiamo voluto enfatizzare gli aspetti della speranza, gli aspetti delle luci, gli aspetti sui quali scommettiamo non soltanto a livello torinese ma a livello nazionale, quello che ci sia veramente un rilancio, una fiducia che va consolidata attraverso la risposta non soltanto della politica ma anche attraverso l'impegno della società civile. Questo naturalmente è un impegno che vale non soltanto per Torino ma per tutte le città. Una sfida alla quale le grandi città naturalmente si possono preparare tutte in Italia con uno strumento che fra poco verrà a loro offerto, uno strumento di governance importante, cioè la trasformazione in città metropolitana. E l'altro strumento che è tipico ed esemplare di Torino invece è l'autoanalisi appunto come dicevo prima e quindi l'elaborazione del terzo piano strategico che è in via di conclusione in questa città, i due aspetti terzo piano strategico e città metropolitana sicuramente offriranno delle occasioni, dell'opportunità di risposta a queste grandi sfide e naturalmente sfide alle quali con il nostro contributo anche noi del Centro Enaudi cercheremo di non far mancare le idee, le passioni e la professionalità che tutti conoscete. Vi ringrazio ancora e passo la parola allora a Marco Ferrande.